Il circolo polare artico dove sono adesso mettendo in scena un teatro, un spettacolo bellissimo. Insieme al regista Tommaso Mottola vi raccontiamo qualcosa del film Karenina and I che vedrete adesso. Non avevo mai sognato di fare Anne Karenina. Quando un teatro in Norvegia mi ha offerto la parte, ho rifiutato. Come tanto di voi non avevo letto il libro, leggo e a pagina 70 arriva Anne Karenina. E lì ho capito perché mi hanno voluto. Non avrei mai immaginato che dopo una tournée di 50 città in Norvegia avrei sfidato me stessa portando in scena Anne Karenina nella terra di Tolstoi. Il film racconta di questa sfida, la mia ricerca su un personaggio, il mio viaggio attraverso tutta la Russia, la mia vita di artista, madre e donna. Ciao a tutti. Intanto questo film, devo dirvi, è nato per risolvere un problema di babysitting. Quando Geril deve partire per la Norvegia da Roma non riusciamo a trovare una persona che l'accompagni con il nostro figlio di tre anni. E alla fine non c'è altra soluzione che andare io a seguire la tournée. E in tournée, sera dopo sera, mi ritrovo a fare Karenin, il marito di Anna, quello che cerca di tenere unita la famiglia mentre la moglie è travolta da una passione irrefrenabile. Dopo tutte quelle performance, lo spettacolo mi aveva anche conquistato, era entrato nel mio corpo, ma pensavo che fosse finita lì. Ma poi le arriva l'offerta di metterla di nuovo in scena a Vladivostro. Cioè Geril, la mamma, se ne va a 12.000 chilometri dal figlio e Geril comincia a dire pure che vuole farlo in russo, una lingua che non aveva mai parlato prima d'ora. Insomma, una vera follia a cui evidentemente Geril non riesce a resistere. E rieccomi nel ruolo di Karenin. Le dico, mi viene un'idea, le dico, ok, accetta pure, ma vediamo pure noi e ne farò un film. E niente, aereo, ti metto sul treno, attraversiamo con tuo figlio tutta la Russia dall'Artico a Vladivostok e con una piccola troupe seguirò passo per passo tutto quello che fai, fino alla premiera. Doveva essere un semplice road movie, anzi un train movie. E invece il nostro viaggio è proseguito per cinque anni, portandoci dove non avrei mai immaginato di arrivare. Ma il viaggio comincia in Italia, a Venezia, poi il fiorto dove sono nato, nell'Artico, e da lì il grande salto, 12.000 km attraverso tutta la Russia, in treno. Non avevo dubbi dovevamo attraversarla in treno. Per Tolstoi è un simbolo così importante della modernità che lui ha detestato per tutta la vita. E il treno proprio unisce il destino di Karenina e di Tolstoi. Lei che si getta sotto un treno e lui che muore in una stazione ferroviaria, dopo essere fuggito di casa. Un viaggio lungo un mese avrebbe aiutato Gerild, gli avrebbe dato tutto il tempo per truffarsi in una cultura straordinaria e nel testo di uno scrittore immenso. Senza un scrittore noi attori non esistiamo. Siamo noi a trasformare le loro parole in azioni e emozioni e si genera un rapporto molto intimo. Quando per la prima volta ho ascoltato Liam Neeson leggere i brani di Anna Karenina, era come avere Tolstoi davanti a me. Tolstoi nella prima pagina di Anna Karenina in una frase celebre usa per ben due volte la parola famiglia. E' questo che mi ha spinto a includere nel film anche nostro figlio. E' stato un rischio, ma sentivo che la sua presenza avrebbe acceso una luce sul rapporto tra Anna e il piccolo Siriosha, suo figlio. E Baltas al tempo del viaggio aveva proprio cinque anni, la stessa sua età. Certo ho avuto paura certe volte per lui, ma più tardi anche per Gerild. Due anni successivi alla premiera, Gerild era ancora ossessionata dalla figura di Anna. E io vedevo che il gioco di specchi tra la passione di Anna per Vronsky e quella di Gerild per il teatro comunque prendeva forma ed era affascinante. Gerild studiava, cambiava, giorno dopo giorno. E io per fortuna non ho mai smesso di girare. Affascinato dall'artista che ha le prese con una sfida unica che la sta portando lontanissimo. E a volte abbiamo bisogno di andare lontano per capire noi stessi. E solo dopo due anni di produzione ho cominciato a capire che il film parlava anche di me. Mi ricordo mentre stavo studiando il libro nel viaggio, scopro che Anna non ha i radici. E un giorno a Vladivostok, Baltasar mi chiede, mamma dove giocavi a Roma quando tu eri piccola? Ma io non ero a Roma. Io stavo nell'Artico con i nonni. Sì, sì, ma dove giocavi a Roma? Lì. Ho capito che stavo togliendo i radici norvegesi al mio figlio. E da quel momento il film si è trasformato. E come vedrete nel film, ha anche cambiato le nostre vite. Questo film è veramente, in parte, un mistero per me. Come si è nato, come abbiamo vinto la sfida spericolata di realizzarlo mentre trovavamo i soldi per farlo. Ma anche come ha cambiato veramente il nostro destino, come diceva Gary. Io so che mi ci sono buttato dentro senza pensarci e ad occhi spalancati. L'ho quasi girato con i miei occhi. E il mio augurio è che vi arrivi il messaggio che il film mi ha regalato. Vivi la tua vita con pienezza. Mettici tanto impegno in quello che fai e vedrai che un sogno si può avverare. L'amore cambia il modo in cui vediamo e capiamo il mondo. Tommaso, il mio grande amore, mi ha trascinato in questa avventura. E mi ha rivelato mondi che non conoscevo e anche su qualcosa di me stessa. E questo film è il nostro regalo a voi. E vi auguro buon viaggio. Buon viaggio a tutti. Ciao.